Il tour non serve a Franceschetta per diventare qualcos'altro, ma serve per aggiungere qualcosa. Ogni qualvolta partiamo per creare un piatto, mettiamo sempre in primis Modena e l'Emilia-Romagna, per poi aggiungerci tutto quello che riguarda il nostro bagaglio culturale. L'ultimo piatto è il piatto sorpresa, un modenese non può mai stare senza tortellini e quindi lo riproponiamo come ultimo piatto a stupire. Abbiamo questo tortellino del tortellante servito su una crema di parmigiano reggiano, di vacca bianca, di rosola e 30 mesi di storia natura. Direi che il mio concetto di cucina è una cucina molto istintiva, una cucina sicuramente territoriale, stagionale. Mi piace provocare, mi piace usare ingredienti meno conosciuti, scoprirli. Ognuno porta la sua esperienza, la condivisione è fondamentale e questa cosa è veramente bella. Lo vedo nelle facce dei ragazzi in cucina, è super stimolante. Per la realtà non tanto nelle ricette in sé per sé, ma come punto di partenza.